E' stato il sensitivo più rispettato d'Italia, tant'è che anche chi non credeva nelle sue doti non si è mai permesso di riderlo. Dalla famiglia Agnelli, avvocato Gianni compreso, a Maria Giuse di Savoia, da Mussolini che lo voleva incontrare a Palazzo Venezia, a Federico Fellini, e Franco Zeffirelli, e Lucchino Visconti, ma anche medici famosi, professionisti disincantati. In tanti sono entrati nel salotto di Role e hanno potuto vivere esperienze uniche. Era conosciuto da tutti semplicemente con le tre lettere del suo cognome, Role, più difficile invece raccontarlo, capire chi fosse davvero. Raccogliete questo mio messaggio, voi giovani d'Italia e di tutto il mondo, incominciate subito a gridarlo dappertutto, vogliamo gli Stati Uniti del mondo! Grazie a tutti!